Tragedia ieri nelle campagne di San Benedetto a Iglesias. Un pensionato di 85 anni, Vittorio Aritino, è stato trovato morto, probabilmente travolto dal trattore che lui stesso stava guidando. L'uomo è stato ritrovato ieri mattina, ormai esanime, sotto il mezzo agricolo, ma con ogni probabilità l'incidente di cui è rimasto vittima sarebbe successo diversi ore prima. A notare il mezzo ribaltato è stato un allevatore intento a pascolare il suo greggio di capre nella zona di Cumbua, a pochi chilometri dalla frazione di San Benedetto, una località impervia e non certo è frequentata se non dai proprietari dei fondi circostanti. Nell'avvicinarsi il pastore, che conosceva il pensionato, l'avrebbe chiamato più volte senza ricevere alcuna risposta. Poi, una volta nei pressi, ha notato il corpo dell'anziano ormai privo di vita. A quel punto non gli sarebbe rimasto altro che dare l'allarme al 112. Dalla stazione d'Iglesias è partita così una patrulla di carabinieri che, una volta giunta sul posto, ha chiesto l'intervento dei vigili del fuoco del distecamento cittadino, che vista la zona impervia non è stato assai facile. Ad uccidere il pensionato, che potrebbe aver perso il controllo del pesante mezzo per un malore o per un'incauta manovra, secondo i primi accertamenti, sarebbe stato il peso del trattore, sotto il quale sarebbe rimasto incastrato, uccidendolo praticamente sul colpo.